Ciao Emanuele, io sono Alessio Cocchi di PianetaEmpoli.it, tanto benvenuto ad Empoli. Ti chiedo questo, tu arrivi qua all'interno di uno scambio un po' particolare, uno scambio che forse in pochi si aspettavano perché due persone importanti per due realtà si sono appunto incrociati. Io ho letto il tuo saluto a Spezia, molto molto bello, molto accorato, si vede che è un gesto d'amore, ho letto tanti commenti dei tifosi dell'Ospezia che per te hanno speso parole immense, ecco, tu sei un professionista e come tutti i professionisti vieni qua per dare il tuo 100.000%, però dietro il professionista c'è anche l'uomo, ecco ti chiedo come hai vissuto tu questo passaggio e come vivi questa nuova esperienza e poi parlando di campo ti chiedo anche dov'è che ti trovi più congenialmente davanti al campo. Sì sì assolutamente, diciamo che ho passato la maggior parte della mia carriera a Spezia, è stato un percorso veramente importante per me, sono stati anni dove abbiamo fatto comunque la storia del club, quindi sai lasciare lo Spezia è stato comunque difficile per me visto quello che che ho vissuto, però era il momento giusto per lasciare il club, per venire qua in un ambiente come Empoli, trovarmi in un ambiente così e assolutamente rimettermi in gioco e cercare di fare bene. Poi per il posizionamento in campo penso che è quello il mister a decidere, io mi trovo bene davanti in tutti i ruoli, quindi sono qua a disposizione dell'alnatore dove lui ritiene che posso dare il massimo, darò il massimo. Ciao Alessandro Nespeca, 50 canale canale 88, ti chiedo quali sono nello specifico le tue caratteristiche e poi se ti ispiri a qualche calciatore in particolare. Sì, diciamo che sono un attaccante esterno che può fare davanti tutti i ruoli, mi piace giocare sulla velocità, sull'inserimento, sul giocarmi l'uno contro uno, uno due, sono un giocatore che cerca sempre di imparare e migliorare, quindi queste sono le mie caratteristiche principali, quindi assolutamente questo, non mi ispiro proprio a un giocatore, però il mio idolo è sempre stato Cristiano Ronaldo. Ciao Emanuele, buonasera, Guastella Gabriele, Radio Bruno. Una curiosità, quando è nata questa trattativa e come è andata la trattativa con l'Empoli e poi come hai sempre visto l'Empoli da fuori, da avversario? Sì, diciamo che è nata subito quest'estate, mia gente mi ha subito contattato che c'era questa possibilità, ero veramente contento perché comunque l'Empoli ho sempre visto una società familiare, una società dove valorizza tanto i giovani, dove si fa veramente calcio e quando me l'ha detto sono rimasto veramente contento perché ogni volta che ho affrontato l'Empoli è stato veramente tosto. Senti Emanuele, il mister Zanetti ha detto di te che sei un capitano, questo a dimostrazione che tu lo conosci bene, l'hai visto insomma al Sud Tirol, è sinonimo che sei oltre che un buon calciatore, un attorno calciatore è anche una persona che ha carattere, che ha tempra e che può, hai parlato di giovani, che può anche magari dare qualche insegnamento ai giovani e in relazione a questo mi piacerebbe capire a che punto sei della tua carriera, che tappa è questa per Emanuele Giasi? Sì, diciamo questa è una tappa importante per me visto che sono stato tanti anni a Spezia, vengo qua come ho detto per rimettermi in gioco, per meritarmi la Serie A, questa opportunità che mi ha dato l'Empoli e lo devo dimostrare sul campo e non solo sul campo come hai detto te anche con i giovani e quindi questa è una tappa importante per me perché non sono più giovane e quindi vengo qua per rimeritarmi la Serie A sul campo. Ti chiedo che cosa ti aspetti da questa stagione e secondo te quali potranno essere le difficoltà più importanti appunto della prossima Serie A? La Serie A è difficile, lo sappiamo perché comunque non è facile, dobbiamo ascoltare assolutamente l'indicazione del mister, cercare di creare quel gruppo perché per me la cosa più importante è il gruppo e insieme al gruppo, insieme all'ambiente, se è tutto un insieme si raggiungono gli obiettivi, quindi assolutamente dobbiamo creare questa archimia tra di noi e se c'è questa archimia penso che in campo poi i risultati vengano a sé. Sei ad Empoli da pochi giorni, hai però già giocato una partitella di precampionato, che impressioni hai avuto, che gruppo hai trovato? Sì, ho trovato un gruppo veramente bellissimo tra i giocatori più esperti, tra i giovani, vedere i giovani che comunque di grandissima qualità, di grandissimo futuro e vedere questa archimia è stato bellissimo perché è un gruppo veramente sano e sono veramente contento di far parte di questo gruppo. Senti, l'ultimissimo Emanuele, quando ad Empoli si cerca un giocatore si cercano anche le motivazioni, immagino che le tue siano tantissime, qui quest'anno dobbiamo fare la storia con una terza salvezza che non è mai arrivata, tu penso voglia quella salvezza che purtroppo ti è sfuggita in quello spareggio contro il Verona? Sì, 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 assolutamente, le motivazioni non mi mancano di certo e assolutamente come ho detto prima la Serie A è veramente difficile, però sono sicuro che con il lavoro, con l'archimia giusta, con il gruppo, tutti insieme, penso che poi il risultato arriverà sul campo. Ecco, Manuel, curiosamente mi riallaccio alla domanda che ti ha fatto il collega prima, perché è curioso il fatto che tu lasci lo Spezia dopo aver affrontato il Verona e la prima di campionato con la maglia di Nepoli sarà proprio contro l'Elas Verona. Sì, sì, è vero, questo è forse destino, non so, però sì, sì, è incredibile e sì, diciamo che ci stiamo preparando bene per affrontare, iniziare al meglio la prima di campionato.